a due anni che prendo la disoccupazione e poi mi rimangono l'ultimo sei mesi e a tre mesi che non prendo soldi e ancora non mi inserisci nel lavoro non so come devo fare più devo pagare la casa e già se non ci pago la casa mi butta fuori il padrone di casa e ho quattro bambini e non so come devo andare a mangiare l'altra volta dovevo pagare la luce a manodotto 20 euro e poi me l'ho fatto un pensiero per un'altra persona per un altro cento venti euro per pagare la luce per amore una ricetta è siccome lavoravo è che stato no ho avuto un infarto di questo infarto mi hanno messo il pass maker e manodotto avevo 50 punti di invalidità poi ho fatto l'aggravamento del pass maker che mi hanno messo ora mi faccio dare un minimo di pensione ma quando ma quale pensione mi hanno tosto quattro punti di invalidità e ho 46 punti allora sono buono per lavorare perché non mi fanno lavorare il motivo perché non mi fanno lavorare neanche ancora lo so mi ha lasciato mi ha convinto che lunedì ci devo andare e devo parlare con il sindaco ecco con l'assessore cangema e no no oggi non l'ho visto e poi mi ha detto che mi fa prendere la disoccupazione questi ultimi sei mesi che rimangono disoccupati poi ci telefonano lui mi ha lasciato mi ha detto questa era la protesta mia che o mi fanno se non fanno queste cose io la prossima settimana mi hanno catena a rete vuole che mi fanno la denuncia se racconto tutte cose lo giudici cos'è lo sa non mi testa niente di chissà niente io voglio il mio lavoro è quello che mi aspetta grazie grazie